Questo è uno straccio tratto dal film documentario Zeitgeist. Che cos'è il signoraggio? Una spiegazione semplice la possiamo trovare su Wikipedia, per alcuni l'equivalente di Topolino, per la scienza, per noi invece è un punto di riferimento. Wikipedia dice che il signoraggio è l'insieme dei redditi derivanti dall'emissione di moneta. Gli economisti intendono per signoraggio i redditi che una banca centrale ed uno Stato, oppure uno Stato, ottengono grazie alla possibilità di creare base monetaria in condizioni di monopolio, ovvero pure di arricchirsi. Cioè il signoraggio non è altro che quello che viviamo a tutt'oggi, per esempio con le banconote dell'euro, c'è scritto Banca Centrale Europea. In realtà non è il popolo europeo che deve mettere le banconote, ma è una banca. La banca non è del popolo però, le banche sono dei privati, con varie possedimenti in percentuali. La Banca Centrale Europea è delle banche nazionali, le banche nazionali come la Banca d'Italia è di banche private, le banche private sono di uomini. Questi uomini si arricchiscono semplicemente perché hanno il monopolio di stampare i soldi. Tutto questo alimenta il debito pubblico e fa sì che non potremo mai e poi mai liberarci o estinguere il debito pubblico. È come se abitassimo in un paese in cui abbiamo a disposizione un solo panettiere. Questo panettiere chiede che il pane gli venga pagato con altro pane, ma non il rapporto di uno a uno, ma un rapporto di uno e mezzo a uno. Quindi ogni volta che compriamo un filone di pane noi dobbiamo darglielo uno e mezzo. Vorrà dire che al primo filone cominceremo a avere un debito che col passare del tempo andrà semplicemente a crescere e mai a estinguersi. Possiamo dormire sonni sereni con una cosa del genere rincombre sulle nostre teste?